Buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti dalla redazione di UD News TV, siamo pronti per incominciare la nostra rassegna stampa con i quotidiani nazionali e locali, torneremo sui fatti di cronaca e poi l'approfondimento con lo sport, una mattinata e un'ora di diretta assieme da vivere con tutti gli approfondimenti del caso per iniziare al meglio questa settimana. Prima di tutto però diamo uno sguardo a come si sta risvegliando la nostra regione con la situazione meteo, le webcam che ci arrivano dal territorio, dalla costa triestina in particolare, un cielo nuvoloso con residui di pioggia caduta nella notte, vedete proprio le istantanee che ci arrivano dal Golfo di Trieste. Facciamoci raccontare nel dettaglio dunque da Elisa Febbo il tempo per oggi. Il meteo è offerto da Azienda Agricola Davide Feresin, viticoltori in Friuli, località San Quirino, Cormons, telefono 0481 630032. Ben ritrovati alle previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di lunedì 7 ottobre. Cielo da variabile al mattino a poco nuvoloso, in genere in giornata soffierà bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Le temperature. Sulla costa le minime dai 9 agli 11 gradi, le massime dei 15 ai 17 gradi. In pianura le minime dagli 8 ai 10 gradi, le massime dei 16 ai 18 gradi. A 1000 metri 6 gradi, a 2000 metri 0 gradi. Grazie per averci seguito al prossimo appuntamento con le previsioni meteo. Il meteo è stato offerto da Azienda Agricola Davide Feresin, viticoltori in Friuli, località San Quirino, Cormons, telefono 0481 630032. Ed ora uno sguardo al traffico, la situazione in tempo reale in autostrada con il quadro di Info Viaggiando che ci presenta la segnalazione di un incidente sulla A28. Vedete proprio il richiamo, l'incidente è avvenuto al chilometro 13 tra le uscite di Villotta e Azzano Decimo in direzione Conegliano. Quindi prestare attenzione per chi transita in zona. Nessun problema invece la tratta di A4 tra Trieste e Porto Gruaro, così come tutto tranquillo sulla A23 e sulla A34. Vedete anche le immagini live dalle telecamere. Autovie Veneto, un traffico comunque in intensificazione come ad ogni inizio di settimana. Lasciamo anche l'autostrada e veniamo ai quotidiani, le prime pagine dei quotidiani nazionali che presentano diversi aspetti delle nuove liti sul governo, le tensioni per quanto riguarda l'esecutivo giallorosso. Partiamo con il Corriere della Sera che apre con il doppio fronte nel governo. Il Movimento 5 Stelle contesta il patto sugli F-35. Conte apre, Renzi lo incalza sul Russia Gate. Nel centro-destra il vertice Salvini-Berlusconi-Meloni intesa per correre insieme in tutte le regioni. E poi la consueta analisi del lunedì di Milena Gabanelli. Data room, rifiuti, mancano gli inceneritori. Un viaggio in Italia per capire qual è la situazione. Si parla ancora della sparatoria di Trieste con la morte dei due poliziotti. agenti uccisi, il giudice una mattanza senza motivo. Ieri sono state depositate il dispositivo del Jeep che convalida l'arresto in carcere per il dominicano protagonista della sparatoria. A centro-pagine invece le morti sulle strade, le morte in auto di quattro ragazzi. Incidente dopo una cena, avevano poco più di 18 anni. Vedremo tra poco che le stragi del sabato sera hanno portato vittime anche nella nostra regione con l'incidente mortale di Fiumicello avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Ancora dalla prima del Corriere l'antimafia brusca può uscire dal carcere. Lasciamo il Corriere, ci spostiamo su Repubblica che invece apre con gli 80 euro di Renzi che diventano bonus famiglia. La mossa PD di intesa con il Premier e i 5 Stelle per neutralizzare l'offensiva di Italia Viva sul cuneo fiscale. Un piano anti-evasione dell'Inps per recuperare fino a 7 miliardi. Il taglio dei parlamentari arriverà alla Camera. Russia Gate, polemica sui servizi segreti. Conte difende i vertici. Caccerò le talpe. Tra gli editoriali proposti oggi in prima da Repubblica il punto di Stefano Folli, le tante ambizioni di un governo precario e poi il caso, quegli apparati e l'alesa lealtà. Si parla delle tensioni con gli Stati Uniti, della visita, del rapporto con i servizi segreti italiani. Giulio Regenis, silenzio dall'Egitto, i genitori da Di Maio e poi l'elezione degli Exit Poll, la ricetta socialista che rivince in Portogallo. C'è anche lo sport con la super sfida e il derby d'Italia ieri sera al Meazza di Milano. Ancora Juve batte l'Inter in casa e va in testa. 2-1 la vittoria per i bianconeri con il gol decisivo di Gonzalo Higuain. Lasciamo anche Repubblica e ci spostiamo su Libero. La prima pagina, il PD agli africani, venite qui. I kamikaze dell'immigrazione, i paesi che crescono di più sono quelli del continente nero ma la sinistra anziché aiutarli vuole spopolarli. Il Papa critica l'economia dell'Occidente però pretende che mantenga tutti. A centro pagina invece la colpa è tutta di noi psicologi. L'ex presidente dell'ordine sui bimbi tolti ai genitori, Grimoldi. Bibiano non è un'eccezione, certi colleghi hanno deliri di onnipotenza. E poi ancora la Polverini muore in ginocchi da Matteo, l'ex camerata bussa a Italia Viva, ancora adesioni per il movimento di Renzi. Lasciamo anche Libero e ci spostiamo sulla verità. Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Tra Renzi e Conte e guerra di spie, il leader di Italia Viva va all'attacco, il premier tace. Ma fino a quando? Al dovere di spiegare cosa è successo il 15 agosto e cosa garantì agli Stati Uniti. Questo il vero Russiagate, contributi alla nascita del nuovo esecutivo, potrebbe decretarne la fine. A centro pagina invece l'Unione Europea, vola lo spreco, la più spendacciona è la Mogherini. I viaggi degli eurocrati con il punto sulla donna nominata dal governo italiano nella precedente legislatura. Poi a centro pagina, la campagna di Del Rio aiutò le cosche. In Drangheta in Emilia la sentenza città l'allora candidato sindaco, la Lega intervenga l'antimafia. Poi ancora su il caso di Trieste, la tragedia, ma che malato quell'assassino è solo uno dei tanti immigrati violenti. Da La Verità ci trasferiamo sul foglio che, come ogni lunedì, presenta una pagina monografica Liberare la Chiesa, l'ambientalismo e l'ennesima rivolta dei Vescovi tedeschi contro Roma sono i temi dello scontro tra i fronti pronti alla battaglia sinodale e il dramma di un cattolicesimo che si vuole giustificare davanti al mondo. L'intervista con durissimo jacuzzi al cardinale Müller che dice, tra le altre cose, il sinodo avrà conseguenze sulla Chiesa universale, avevano preannunciato dalla Germania già in primavera. Dal foglio ci spostiamo sul giornale con l'apertura dedicata al centrodestra che torna unito, il vertice decisivo, Berlusconi, Salvini e Meloni ufficializzano l'alleanza. Ora rimettiamoci in marcia e liberiamo l'Italia. Salvini, tra l'altro ieri presente a Porcia per la festa della Lega e oggi sarà a Trieste. Paghiamo noi 81 milioni per i debiti dell'unità, immobili sparite, garanzie da Palazzo Chigi e poi l'appello per non dare il Nobel a Greta, candidata al premio della pace. Le fondine pericolose, nessuno ascoltò la polizia. Lettera ad agosto, risposta solo il 2 ottobre. Un altro risvolto della tragedia di Trieste, proprio quello sulle dotazioni in servizio agli agenti che continuano a creare polemiche. La stampa di Torino che apre con la bufera sui servizi e Conte che resiste, Italia Viva e 5 Stelle favorevoli al cambio dei vertici, ma Palazzo Chigi fa muro. Vecchione non si tocca, oggi in aula il taglio dei parlamentari accorre nel governo sulla nuova legge elettorale. A centropagine invece l'esultanza di Gonzalo Higuain, la vittoria di Sarri, vale il primato per la Juventus nel posticipo di ieri sera. Dalla stampa andiamo sul Fatto Quotidiano con Di Maio che dice stoppa i litigi e gli annunci e basta correre dietro a Renzi, c'è il colloquio con il capo 5 Stelle. Il fatto su governo è svolta imminente nel Movimento 5 Stelle. E poi meno 345 parlamentari, ecco che cosa succederà dopo, domani l'ultimo voto sulla legge del Movimento 5 Stelle. La storia di Copertina invece nel partitino di Matteo non si butta via niente, Italia Viva con dal nord al sud l'ex rottamatore che imbarca signori delle tessere, ex di Forza Italia e transfughi del PD. Chiudiamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali con il Sole 24 Ore che pone un focus sulla manovra che rilancia con i tagli di bonus e il fisco semplice. Le agevolazioni in campo oltre 500 incentivi, tutti calibrati su precisi destinatari, in arrivo sconti sui pagamenti tracciabili, l'ACE e 4.0. Sulle semplificazioni dopo il decreto legge crescita, la nota del DEF riapre il dossier, documento Confindustria, commercialisti con oltre 50 proposte concrete. E poi ancora in alta quota sparisce il sotto zero, nuovi dati CNR sul clima, ogni anno 4 giorni in meno con temperature negative. Nell'estate 2019 è stata la terza più calda dal 1800, la mappa delle ondate anomale città per città. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani nazionali e ci spostiamo sui quotidiani di casa nostra. Partiamo con il messaggero Veneto che apre con un risvolto sulla tragedia di Trieste quando il killer dei due poliziotti abitava Udine in via di Giusto. I residenti della zona raccontano stava per ore da solo seduto su un muretto, il magistrato è un assassino lucido, nessuna traccia di malattia psichica. E poi ancora la cronaca con l'auto fuoristrada a Fiumicello, un ragazzo muore, 4.0. I giovani feriti che erano in auto con lui. La politica, Salvini e i leghisti friulani, torneremo al governo, ieri sera Porci ha chiuso la festa della Lega. E poi lo sport con l'Udinese, i soliti errori, Udinese KO a Firenze, battuta per 1-0 la formazione di Tudor. Vince però l'Apu con la prima di campionato a Roseto, dopo un inizio shock, la conquista della vittoria per 87-74. Andiamo all'interno delle pagine del messaggero per approfondire proprio la questione Trieste con il racconto del killer che ha abitato in Via di Giusto. A Udine veniva a trovare il fratello, la parentesi, nel quartiere dei Palazzoni per Cristel Stefan Meran, il fratello del killer, la Reando Augusto. Qui c'è ancora qualcuno che ricorda i due fratelli. Che cosa dicono le testimonianze? Si capiva che quel ragazzo aveva qualche problema, ma facevamo finta di nulla. Nel frattempo si continua a indagare il GIP che ha emesso la sua ordinanza. È stata una mattanza, disturbi psichici, nessuna traccia. Aveva familiarità con le armi e una spinta criminogena. Ieri, tra l'altro in ricordo delle due vittime, dei due agenti uccisi, la questura di Trieste ha diffuso anche sulla sua pagina Facebook uno degli ultimi video che li ha visti insieme durante un turno. Allora andiamo ad ascoltare le loro parole, la loro memoria. Buonasera, dopo tanto tempo i figli delle stelle sono tornati. Siamo qui, e quindi dormite sani tranquilli. Siamo qui, c'è la volante 2 questa notte, è tutto a posto. Ma sempre si inizia figli delle stelle. E quindi speriamo bene, e niente. Buonanotte, buonanotte. Ciao. Le avete visti due agenti uccisi dalla furia di questo omicida che appunto gli ha tolto la vita nella strage avvenuta in questura a Trieste. Questo è il video che ha voluto omaggiare il ricordo dei due agenti della Polizia di Stato rimasti vittime di questa tragedia. Continuiamo con i quotidiani, continuiamo con le pagine interne del messaggero Veneto. Sulla politica c'è appunto la visita di Salvini ieri a Porcia che durante la festa della Lega è tornato ad appellarsi ai suoi militanti. Ritorneremo presto al governo. Il leader leghista attacca, sono in ripresa gli sbarchi di immigrati, leggi bocciate. I primi decreti di Roma sono contro il Friuli Venezia Giulia. Queste le dichiarazioni di Salvini. Andiamo invece alla cronaca locale con lo schianto drammatico di Fiumicello. nella notte è morto un 22enne. Si tratta di Davide Francescotto che rientrava da una serata con gli amici. L'auto ha terminato la sua corsa contro un muro di cemento. Allora andiamo ad ascoltare il servizio di Luciana Edelfonso. Il giovane è morto e altri quattro ragazzi sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto questa notte a Fiumicello. A perdere la vita Davide Francescotto, 22enne, residente nel comune della bassa friulana, ha deceduto all'istante a causa dell'impatto della vettura con un muro di ricinzione collocato in via Brancolo. A perdere il controllo del mezzo il guidatore, un ragazzo di 21 anni ricoverato in ospedale insieme agli altri tre passeggeri, due giovani di 19 anni e un ragazzo di 17, tutti residenti in zona. Il guidatore e i tre passeggeri sarebbero feriti ma fortunatamente non in modo grave e non sarebbero un pericolo di vita. Le cause dell'incidente avvenuto intorno alle 2 del mattino sono al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Continuiamo con i quotidiani, ci spostiamo sul gazzettino, la prima pagina del dorso nazionale. Pazzo? No, un lucido killer a Trieste. Il jeep è pericoloso e deve restare in carcere, nessun delirio. Mentre colpiva, ha sparato anche ad altri sei poliziotti. Il questore si è rischiata una strage. E ancora la testimonianza proprio di chi si trovava lì. Abbiamo rischiato la vita ma siamo riusciti a fermarlo. Ancora dalla prima del gazzettino, dal nord-est all'Olanda, il ricercatore dell'anno, si tratta di Matteo Monai, al lavoro Outrek, Mattarella, premia il friulano per questa sua attività di ricerca. Ancora, contatti Stati Uniti Servizi Segreti, Renzi sfida a Conte, Chiarisca, Russia Gate, il leader di Italia Viva, il premier Lasci, la delega. Lasciamo la prima del gazzettino nazionale e ci spostiamo su quella dedicata al Friuli, con l'incidente di Fiumicello. Muore a 22 anni, la vittima è Davide Francescotto, abitava a Fiumicello. Altri quattro giovani rimasti feriti alla guida. Un amico, l'incidente affrontando una curva in una strada secondaria, l'auto ha sbattuto contro un muretto dal lato del passeggero. Sempre dalla prima del gazzettino, Pozzuolo che festeggia un secolo di calcio, la ricorrenza alla prima squadra nel 1919. E poi la questione terza corsia, tempi sprint, l'impegno di autovie per concludere il cantiere in anticipo. Si parla anche di Udinese con la maledizione del Franchi, che continua, ne parleremo tra poco, anche andando ad analizzare le altre notizie sportive. Dal gazzettino ci spostiamo all'edizione del piccolo di Gorizia con la prima pagina che riporta proprio l'istantaneo del video che vi abbiamo mostrato poco fa, quella dei due agenti, De Menego e Rotta, che hanno salutato con questo video diffuso dalla Questura mentre erano in servizio durante un pattugliamento notturno. E il titolo del piccolo sapeva come usare la pistola, ha sparato ucciso con lucidità, l'ordinanza contro il killer Caraibi con nessun segno da follia dall'ospedale, andrà dritto in cella. Le altre notizie, il fratello dell'assassino che dice ho paura di ritorsioni mentre non si ferma il pellegrinaggio per rendere onore ai caduti a Trieste, anche ieri tantissima gente. Le altre notizie dal piccolo, muore a 22 anni tra le lamiere, altri quattro ragazzi restano feriti. A Monfalcone una canna fumaria intasata dal nido dei Calabroni, due le persone intossicate. Lo sport triestino, l'effetto principale esaurito, l'unione cade al Rocco contro il Ravenna. perde anche il basket, la palacanestro Trieste è sconfitta a Milano dall'Armani Jeans. Dal piccolo ci spostiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Apriamo con la Gazzetta dello Sport che celebra la vittoria della Juventus nella sfida di ieri. All'Ameazza, Juve sorpasso in HD, Higuain di Bala, Inter battuta 2-1, i bianconeri si dimostrano più forti. Conquistata la vetta, Lautaro non basta, il capo di Sensi frena in erazzurri. Sarri che qualità non avete ancora visto il meglio, Conte ammette sono di un'altra categoria. A centro pagina invece Gianpaolo, titoli di coda, Milan idea Spalletti, svolta di Elliot, c'è aria di esonero, piace l'ex Inter ma va convinto, clamoroso, la vittoria col Genoa potrebbe non bastare all'allenatore per salvarsi. L'Atalanta da record, un bel Torino in Gabbia, il Napoli col mal di golle, altre gare della domenica e poi riecco Mihailovic, Bologna e Lazio unite per lui in pellegrinaggio. 2-2 la sfida sul campo. Dalla Gazzetta al tutto sport che titola Juve, che lezione a Conte, bianconeri padroni a San Siro, segna subito Dybala, pareggia Martinez su rigore, ma i campioni d'Italia continuano ad aggredire l'Inter. Nella ripresa entra Iguain e firma il gol del sorpasso. È tornato Toro, contro il Napoli si è rivista finalmente la squadra che può puntare decisa all'Europa. E poi sempre più Dea, l'Atalanta travolge il Lecce nel nuovo stadio, a meno 3 della vetta, record di gol e punti nel 2019. Svolta clamorosa a Milan via Giampaolo in Pol Spalletti e poi la MotoGP in Thailandia. Marquez vince gara e ottavo mondiale. Dal tutto sport ci trasferiamo al corriere dello sport con Sarri al potere, Juve prima, battuta all'Inter a San Siro e 2-1. Brodezza di Dybala dopo 4 minuti, pari sul rigore di Lautaro, decide la zampata di Iguain. Maurizio che dice il sorpasso ora significa poco, Conte abbiamo tanta strada da fare. E' un Napoli spento, non sa più segnare, deludente pareggio 0-0 contro il Torino. Ancelotti troppo timidi in attacco. La Roma invece spara 0 sugli arbitri, sull'arbitro in particolare che ha diretto la sfida di ieri contro il Cagliari. Indisponente, lo ha giudicato il direttore generale della Roma, nullato un gol a Calinici nel finale. Spulso Fonseca e Fortunio a Gheco e Diavara. Lazio, doppio Ciro nel giorno di Sinisa, Mihailovic in panchina, Bologna finisce 2-2, immobile, capo cannoniere. E poi Gianpaolo vicino all'esonero, Milan in pressing su spalletti, mentre per quanto riguarda il moto mondiale, Marchez in trionfo, l'ottavo mondiale per lui. Dalle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali andiamo ai quotidiani sportivi di casa nostra, con il messaggero Veneto che apre con l'Udinese e fa il punto della sfida del Franchi. Un regalo, un gol sbagliato, l'Udinese torna a mani vuote. Firenze ancora a mare, i bianconeri pagano un'altra giornata da Wanted di De Paul e la cronica sterilità offensiva. Le dichiarazioni a fine gara, Kevin Lasagna che dice un vero peccato, l'aveva piazzata bene, è stato bravo il portiere, la punta si era ammarica per l'occasione fallita che poteva valere l'1-1 e sul corner. Se Iaialo avesse avuto un dubbio avrebbe spazzato. Montella e Predemi hanno detto che siamo una squadra difficile da affrontare, il pari ci stava tutto, ha dichiarato invece Stefano Caca e andiamo a ascoltare invece le parole del mister bianconegro, Igor Tudor. Il rammarico, come dicevo poco fa, di aver subito gol su un corner evitabile, perché poi la squadra ha fatto comunque prestazioni. Fa parte di gioco, loro comunque hanno avuto non so quanti numeri di corner e lo sapevamo, che c'è Milinko, che è forte là, infatti dovevamo anche marcarlo, l'abbiamo marcato un po' in lamento, preparare proprio a uomo. E loro sono stati bravi, di quelle cose là, di questi corner l'hanno sfruttato, fa parte di gioco. Una squadra forte, comunque che in difesa secondo me abbiamo fatto abbastanza buone cose, invece avanti, quelle poche volte che siamo arrivati, potevamo metterlo dentro. Se non la metti è difficile che poi mantieni, no? Bisogna crescere, bisogna migliorare e avere la voglia, l'umiltà di fare queste tutte robe e crescere insieme, da tutti i punti di vista, è un unico modo. Comunque 1-0 con quell'occasione di lasagna, peccato, no? Perché ci poteva stare. Eh, va bene così, dai. Si va alla seconda sosta con la consapevolezza di avere un reparto arretrato molto solido, perché anche quest'oggi sono arrivate risposte importantissime, anche da Opoku, che ha fatto una prestazione molto importante. Peccato, come diceva lei, non riuscire ad essere un pochettino più cinici, perché poi qualche chance, anche sull'ultimo passaggio, non solo sull'occasione diretta. Sì, sì, sì. Come ho detto prima, ci sono due quinti, ci sono due mesali, ci sono due punte, no? Siamo in sei e là bisogna fare differenza. Bisogna fare differenza, proprio andare a fare gol, dribblare, fare assist, metterla dentro, facendo le cose giuste, semplici e così via, no? Siamo dietro, come sempre, come sempre, loro a Fiorentina, quando eravamo messi così, c'era praticamente l'unico pericolo, era il contropiede, e quelli calci piazzati, quando eravamo messi bene l'etidale, hanno fatto veramente poco. Poi dispiace, perché c'era la sensazione che si poteva prendere un punto, non facile, però si poteva prendere, no? Va bene, dai. Queste le parole di mister Tudor a fine gara, ci spostiamo sul gazzettino che titola Udinese Maledizione Viola, ancora un capo al Franchi, Milenkovic approfitta dell'ingenuità di Iaialo e sigla di testa il gol partita, annullato dal VAR una rete Nestorowski, Tudor espulso per proteste, male De Paul, bene la difesa, il mister poi che dice protesta civile, non meritavo il rosso. Sempre dalle pagine del gazzettino andiamo all'approfondimento sulle pagine locali con il problema che rimane l'attacco. Tudor siamo solidi e rischiamo poco, ma in avanti bisogna portare con umiltà e impegno più giocatori al tiro. Marino che dice la coppia offensiva è nuova, deve lavorare molto. C'è Lasagna che fa i complimenti a Dragoschi o Caca, prima o poi ci sbloccheremo. Il tecnico croato sulla sua espulsione, ho solo protestato civilmente, accetto la decisione anche se non concordo, ha dichiarato il mister. Parliamo anche di Pordenone che si è goduta invece ieri la vittoria di sabato contro l'Empoli, Nero Verdi, area di playoff. Non esistono imprese impossibili, il motto caro da Tilio Tesser è diventato il mantra dei suoi ragazzi, quattro uomini decisivi dentro e fuori dal rettangolo, anche il presidente Balata della B era alla Dacia Arena. C'è anche una tesi di Laura dedicata al fenomeno Pordenone a firmarla Michela Carlette che ha fatto il punto sul logo, sul sito e sulle maglie e su un'analisi commerciale della società. Lasciamo il gazzettino, torniamo al messaggero ma per parlare di basket perché ieri vi abbiamo proposto live la sfida dell'Old Wild West, la prima di campionato del girone est di A2 e con la vittoria su Roseto per 87-74 inizio da incubo, poi l'Old Wild West espugna Roseto. Primo quarto shock, Udinesi anche sotto di 15 punti contro i giovani abruzzesi ma la rimonta arriva in un lampo nonostante i problemi dei falli lunghi. Domenica al 12 già mezzogiorno il primo big match al Carnera perché arriva a Verona e a proposito della prossima sfida, mentre vedete proprio i canestri della sfida di ieri dicevamo a proposito della prossima sfida di Verona, andiamo a sentire anche il coach Ramagli a fine partita. Una mi sembra molto molto attrezzata, anche molto più profonda di noi, mi sembra la vera favorita ma non perché bisogna togliersi di dosso il loro di favorito che non c'è preferendo di giusto, tanto io la vivo uguale allo stesso modo, anche vedo un po' in Dormos e sono favorito e invece dormo se non so, però onestamente per una profondità di roster, una quantità di giocatori, un livello di esperienza, anche un'abitudine a giocare con tanti giocatori che facevano parte del roster dello scorso anno con l'addizione di che in questo campionato l'ha vinto davvero e l'ha vinto più volte, quindi onestamente senza ripeto volersi tornare di dosso un'etichetta che non mi importa niente, tanto non sono io a darmi l'etichetta, secondo me Merona, all'interno di questo ginomio è la squadra che ha più strumenti di tutti per poter recitare con la squadra, naturalmente ha in mano i galloni della favorita e della squadra che ha un po' più di carte rispetto agli altri per poter arrivare al versare grosso, però questa è una mia valutazione, quindi come gli altri fanno le loro valutazioni, faccio le mie, ma non faccio per sviluppare la profondità di roster nostra o degli altri, credo che a raggiungere tutta quando una squadra prende Rosselli, Asbrook, tiene il pacchetto dell'undi dello scorso anno, aggiunge un giocatore serio come Prandina all'ultimo momento che ha finito il campionato dello scorso anno, secondo me questa è la squadra che probabilmente è destinata un po' a guardare tutti dall'alto verso il basso. Erano le parole di coach Ramagli, lo leggete anche sul messaggero Veneto, soddisfatto siamo riusciti a trovare le chiavi per aprire la porta al presidente Perone, un successo di carattere ora sotto con Verona, vittoria dedicata ai due poliziotti uccisi a Trieste che l'ha voluto lasciare a fine gara. In classifica per quanto riguarda la A2 vediamo che oltre all'All-Duel West vincono Verona, Sansevero, Mantova, Montegranaro e Ferrara, tutte le altre a zero punti. In Serie A invece Milano si sbarazza di Trieste, Segrafedo grande con Milos supera Venezia, guida la classifica di Serie A maschile, il banco di Sardegna e Sassari assieme alla Virtus Bologna. Dal basket un passaggio rapido anche al volley, ieri c'era l'esordio per la CDA di Talmassons in A2, un esordio amaro così come quello per l'Itas Cittafiera. La CDA perde 3-1 in casa contro Cutrofiano mentre Martignacco è sconfitto da Soverato con il medesimo risultato di 3-1. Il volley si chiude qui, c'è anche un passaggio sul ciclismo con la vittoria, con la presenza di Luca Braidotti in Giappone alle preolimpiadi, terzo nella sfida delle mountain bike che lo vede protagonista a caccia della qualificazione per Tokyo 2020. Noi ci fermiamo qui con la nostra prima parte di Rassegna Stampa, tra poco tutti i risultati dei dilettanti con Alice Mattelone e poi ci ritroviamo alle 8 per ulteriori approfondimenti di cronaca e di sport. Grazie a tutti.